La targa all'ingresso dell'area verde recita Laboratorio Città dei Bambini. Quest'area è dedicata al gioco ed è stata ideata dai consigli dei bambini e dei ragazzi della scuola media Gandilio. Il progetto è dell'ufficio tecnico del comune per la red urbano, come pure la sua realizzazione con il contributo del comune di Fano, del ministero dell'ambiente e della rivista insieme della RCS Periodici. Opera quindi della collettività realizzata con i soldi della collettività. Ma a giudicare lo stato di abbandono e degrado di quest'area, come ci hanno fatto notare molti segnalatori in questi giorni, difficilmente crediamo possibile che i bambini possano giocarci, non si capisce con che cosa poi, visto che l'area è un quadrato erboso con due strutture, una che molti in città hanno soprannominato il patibolo per la sua quanto mai originale struttura in legno, ed una che è un insieme di tre gazebo malconci e usurati dal tempo, nelle loro parti in legno e con teloni sporchi, pieni di muffa e laceri in diversi punti, senza nulla sotto, che dovrebbero, probabilmente nelle intenzioni dei suoi progettatori, avere la funzione di accogliere e riparare, cosa che ci risulta veramente difficile da immaginare. A questo aggiungiamo che sotto i nostri occhi poi un cane, al seguito della sua padrona, è entrato nell'area e ha liberamente lasciato le sue eiezioni corporali nel mezzo dell'erbaccia incolta che formerebbe il prato. Pensiamo solo alle conseguenze che un'eventuale scesa in campo di bambini festanti e giocosi che ci corrano sopra. Naturalmente la padrona del cane si è ben guardata dal raccogliere le feci del proprio amico a quattro zampe, lasciando alla natura il compito di far sparire le tracce. Richiamandolo semplicemente con un fischietto, il compiaciuto quadrupere per la propria opera. Forse perché in questo periodo di inizio estate maggiore è il passaggio di gente da mattina a sera in questa zona che, dobbiamo dire per dovere di cronaca, sul fronte del verde pubblico ha ricevuto sì le attenzioni dell'amministrazione comunale, ma maggiori sono le domande che i cittadini ci rivolgono. A che cosa serve? Perché è stata lasciata l'incurea alla sporcizia? Non ci vediamo mai nessuno se non la sera i ragazzini con i motorini che bevono e fumano perché il comune non ci fa niente. Questo per citare solo alcune delle più comuni osservazioni che ci sono arrivate. Più o meno sono le stesse domande che ci facciamo anche noi, visto che in questi giorni il verde della Sassonia è stato così curato, non si poteva fare qualcosa anche per quest'area verde?